Un saluto a tutti e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento dedicato alla salute. Nella scorsa puntata ci siamo salutati con un appuntamento, o meglio, dato appuntamento a degli ospiti, delle persone che hanno avuto a che fare con una brutta malattia. Sto parlando della cardiomiopatia aritmogena, una malattia che può causare addirittura una morte improvvisa. Sono tornati nel mio studio perché l'argomento è davvero interessante ed è importante approfondire questo tema. Allora io do il benvenuto al dottor Leonardo Fiori, neurochirurgo dell'ospedale San Gorni praticamente. Non avete avuto tempo di metabolizzare? Adesso tuo figlio come sta? Riccardo sta molto bene. Chi ne ha affetto deve essere bloccato a livello sportivo, quindi non può più far sport. Quindi puoi immaginare un ragazzino di 13 anni nel piede. Non hanno niente a che fare con la nostra malattia, però hanno sostanzialmente rilevato delle piccole. Questa fortuna diciamo. Certo, mentre nel recente evento per fortuna i bambini erano tessani. Per fortuna niente, sì, questo niente. Ecco, Leonardo, come la medicina può aiutare a contrastare questa malattia? Con la terapia medica tradizionale. Poi sono cominciati i segni di scompenso alla ricerca specifica del problema. Perché tutti questi ragazzi fanno tutto... Chiedere per le fattezza. Al nostro medico appassionano a questa patologia e vanno a ricercare, avendo fatto dei master a livello medico, a livello sportivo, a livello di società. E questo è anche uno degli obiettivi della stella di Lorenzo, Onlus, è così, ragazzi. Mettendo appunto, accentuando questo aspetto e prendendovi cura del cuore di tante persone. Il nostro tempo a disposizione è terminato. Grazie a Maurizio Fabri per fermare. Piccola pausa tra poco, sempre nel salotto di tanta salute. Grazie a tutti.